ragazzi bella a tutti ed eccoci di nuovo sulla nostra fantastica super mega figa avventura che stiamo costruendo su parndor plus allora facciamo un sunto intanto di dove eravamo arrivati che non è questo ma questa era quella sempre che sto scrivendo io ma io sbaglierò sempre adesso eccola qua perfetto dove eravamo arrivati eravamo arrivati che praticamente avevamo implementato questa scala di roccata che se la esaminiamo manca la scala mancano gradini dovrei trovare il modo di superare le parti mancanti qui rifacciamoci il giletto prendiamo il nostro impermeabile con prendi lo possiamo anche indossare torniamo giù se usciamo in giardino adesso con l'impermeabile possiamo andare in giardino e vediamo il capanno degli attrezzi possiamo entrare il telone di plastica lo possiamo esaminare e una volta esaminato vediamo gli assi di legno che prendiamo qui abbiamo le nostre statistiche diciamo torniamo indietro e rientriamo nella casa bene abbiamo il nostro le nostre assi di legno allora vediamo un po io volevo fare adesso abbiamo tutte le carte in tavola per costruirci questo passaggio perché abbiamo le assi di legno a parte vorrei togliere usable perché vi faccio vedere una cosa adesso implementeremo un comando sembrano molto resistenti le variabili abbiamo le assi che ce le siamo tenute così non si sa mai potremmo fare aumentare questa variabile per qualcosa le room abbiamo il capanno vorrei fare una nuova room la nuova room sarà la 06 e sarà r primo piano perché faremo una stanzetta di arrivo per il primo piano siamo siamo al piano superiore della casa virgola i pavimenti sono un po' traballati ma dovrebbe essere sicuro punto mettiamo un apice andiamo a capo allora vediamo il corridoio il corridoio è troppo buio avventurarsi senza luce sarebbe troppo pericoloso ok manteniamoci che su questo primo piano riusciamo a salire al primo piano però diciamo che è un po' poco sicuro camminare perché è troppo pericoloso per il buio ci teniamo questo spiraglio aperto per per creare un'ipotetica situazione adesso abbiamo tutto quello che ci serve per creare questo passaggio per salire al primo piano grazie a queste famose assi allora facciamo così nelle assi useremo adesso un nuovo tipo di menu appunto che è menu dove possiamo implementare le nostre azioni custom cioè quelle che vogliamo far fare al giocatore in modo particolare su un oggetto per dirvi qui non useremo il menu dove poi pandora in automatico ci metterà usa questo con questo usa questo con questo usa questo con questo ma faremo proprio un menu particolare con un utilizzo ci siamo perché poi potremmo andarlo ad ampliare ora lo faremo semplice cioè che non avremo bisogno di niente per far apparire questo menu ma che ne so per dirvi se vorremmo far apparire questo menu in certe altre situazioni potremmo mettere delle condizioni per esempio se io volessi usare dovessi appendere un quadro al muro e voglio far apparire il menu pendiquadro se magari non ho con me un martello e un chiodo quel menu non apparirebbe perciò metterei una condizione di if io non ho l'oggetto martello e l'oggetto chiodo il menu non appare oppure sarebbe di norma giusto il contrario che il menu fare soltanto se ho con me quell'oggetto quel martello quel chiodo o quella variabile è ampliata ok perciò noi adesso faremo finta che non ci serve nulla per fare questa azione ci bastano le assi di legno perché io voglio far riparare la scala con le assi di legno perciò andiamo un attimino a vedere come costruirci questa azione ok allora cominciamo questo menu si entra in funzione così si mette il comando menu si aggiunge un più più un doppio più avremo le virgolette e poi tutto si chiude con punto e virgola in mezzo metteremo qui alle virgolette il comando che è custom che vogliamo implementare perciò nel nostro caso è abbiamo delle assi di legno abbiamo una scala dove sistema assi forse no io direi più un ripara ripara perfetto che poi stiamo facendo un esempio ragazzi perciò per ora ok salviamo e adesso andiamo a fare il vero e proprio la vera e propria azione perciò qui abbiamo le azioni creiamo una nuova azione abbiamo l'oggetto abbiamo dove lo vogliamo usare vediamo poi i nostri oggetti abbiamo le assi di legno e la scala perfetto ci siamo creati la nuova stanza che è il primo piano perciò cosa faremo adesso andiamo a creare un'azione che andrà a intercettare quel ripara del nostro oggetto perciò andremo a scrivere se abbiamo la parentesi f action se noi facciamo l'azione con assi assi di legno assi di legno ragazzi è un po' come questo attratto di linguaggio del javascript è un po' come il basic gli if gli and gli or praticamente sono le diciamo le regole booleane che si usano in tutti i linguaggi un pochino dal basic al javascript sono le condizioni che si mettono che se if questo e questo sono in questa posizione succederà un'altra azione perciò questo attratto di linguaggio è un po' quasi un po' comune a tutti i linguaggi perciò se assi di legno virgola andiamo a intercettare proprio il verbo ripara perché lui darà priorità questo verbo virgola cos'era la scala object assi di legno scala perfetto scala potremo chiudere dopo andremo a vedere tutti gli errori che ho fatto chiudiamo le parentesi ovviamente chiudiamo due parentesi perché ne abbiamo aperte due bisogna sempre andare pari una parentesi aperta una parentesi aperta due parentesi chiuse cosa succede cosa succede se l'azione è ripara cioè l'oggetto assi di legno usiamo l'azione ripara sulla scala che cosa facciamo succedere facciamo succedere scusate mi stavo strozzando facciamo succedere due cose apriamo la parentesi graffa e qui in mezzo scriveremo il nostro codice diciamo succederà che facciamo appartato apparire una scritta f cio facciamo apparire la scritta sembrano abbastanza stabili da poterci camminare sopra facciamo apparire una scritta che le assi appena piazzate sembrano abbastanza stabili per poterci camminare ok e per ora la scritta lasciamo questa poi andremo tutto a modificare ragazzi poi togliamo f move perché giustamente le abbiamo usate le assi di legno e non ce le dobbiamo avere più appresso muoviamo assi di legno che è l'oggetto sempre tutto tra virgolette virgola il linguaggio ragazzi un pochino è da imparare perché giustamente è route lo togliamo dal nostro inventario perché non lo abbiamo più ovviamente abbiamo usato e poi potremmo bloccare un altro menu tipo sali magari nel menu della scala potrebbe parire il sottomenu sali che ci porta al primo piano ma noi adesso per fare una cosa più veloce per sbrigarci a parte che scusate voglio un attimino spaziare un pochino le cose perché così tutto attaccato io già non vedo una sega facciamo F con questa funzione fantastica move player muoviamo noi direttamente il giocatore in automatico nella stanza room come si chiama R primo piano perciò action muoviamo il giocatore in R primo piano da 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 et mi raccomando sempre comando finale return true perché significa che l'azione è stata svolta è finita basta non dobbiamo più non ci serve più questa azione perciò viene totalmente cancellata cancellata viene praticamente terminata ok perciò che succede if action assi di legno ripara scala succederanno tre cose se metteremo in funzione questa funzione azione parirà una scritta con sembrano abbastanza stabili da poterci camminare sopra le assi di legno dal nostro inventario andranno air out e il player si muoverà al primo piano adesso facciamo un salvino ricarichiamo in pandor l'avventura facciamo file set project non avevo neanche ancora aperto la casa ok facciamo generate vediamo se abbiamo sbagliato qualcosa nello scrivere incredibilmente non abbiamo sbagliato niente c'è qualcosa che non va strano interessante e adesso vediamo che succede se torniamo terminiamo la nostra avventura ricarichiamo perché voglio ricaricare lo script continua 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 una scala tiroccata porta al piano superiore la esaminiamo e alla scala mancano gradini dovrei trovare il modo di superare le parti mancanti perfetto andiamo qui prendiamo il nostro impermeabile lo indossiamo direttamente facciamo veloci vai vai giardino capanno entra pelone di plastica esamina ci appaiono le assi prendiamo le assi prendi come vedete già nelle assi ci è apparso ripara e questo ragazzi come vedete brutta cosa perché già ci dà il menu per poter riparare continua e siamo al piano superiore della casa i pavimenti sono un po' traballanti siamo già praticamente in grado nel momento in cui prendiamo le assi già ci appare il menu questo purtroppo è un'incongruenza e dobbiamo risolverla perché perché non è possibile che noi come prendiamo quell'oggetto già abbiamo il l'azione pronta da fare perciò dovremo andare a modificare lo script qui e ovviamente dobbiamo aggiungerci un'altra condizione che sarà if player is in stanza buia perché se no l'azione non deve avvenire se io non sono nella stanza buia ok adesso l'andiamo subito a modificare dovrebbe essere abbastanza semplice perché già l'avevamo fatto qui nelle condiction vi ricordate che questo doveva avvenire soltanto se anche il player era presente nella stanza buia perciò io direi copiamoci questo e is player in stanza buia vediamo un po' come ctrl c attaccarlo a questo prepara scala spazio ctrl v e il player is in stanza buia qui adesso diventeremo un po' pazzi con le virgolette credo che basti fare così allora abbiamo 1 2 3 1 1 2 3 assi di legno scala questo è chiuso tra virgolette questo è chiuso tra virgolette dovrebbe essere sufficiente credo no spero di sì dovrebbe essere sufficiente ragazzi proviamo vediamo se c'è qualche errore di compilazione eh sì eccolo qua no don't smash in linea 19 mi dice che il number of parentesi non è giusto in linea 19 perciò siamo qua allora abbiamo apriamo parentesi apriamo parentesi assi di legno qui chiudo la parentesi questo è chiuso tra parentesi questo abbiamo la parentesi è chiuso una due tre quattro una due tre quattro contiamole di qua una due tre quattro una due tre me ne serve un'altra possibile non li taglio questi pezzi ragazzi perché purtroppo quasi va di ragionamento e mi va anche di farlo insieme a voi perciò possiamo vedere un po' le difficoltà che si incontrano quando allora riprendiamo il nostro file html e vediamo se iniziamo l'avventura ricarichiamo prima cosa iniziamo l'avventura già che l'avventura parte è un buon segno poi implementeremo anche il caminetto la scala diroccata la esaminiamo est indossa west nord capanno entra telo di plastica esamina prendo le assi di legno ripara proprio non sembra funzionare è già perché perché non stiamo passando la variabile della stanza buia non siamo nella stanza buia ripariamo che cosa una sega perciò adesso torniamo indietro esci rientriamo nella casa entra la scala diroccata esamina e assi di legno dove sono scritta ma non l'ho prese sono deficiente vai capanno se le prendo magari prendi infatti anche qui lascia togli esamina questa qui assi di legno ripara niente non sembra proprio funzionare porta esci casa entra nella casa adesso siamo nella stanza buia perciò il sito di legno ripara sembrano abbastanza stabili da poterci camminare sopra e passiamo al piano superiore fantastico perciò con questa piccola quest delle assi di legno riusciamo a salire al piano superiore della casa dove praticamente potremo continuare la nostra avventura benissimo è stato come vedete il codice da scrivere non è tanto sono variabili sono codificazioni ragazzi una volta che voi avete scritto tranche di codici all'inizio nel file poi bisogna solo creare gli oggetti le stanze le questioni da fare è un continuo copia in colla di tranche di codici cambiare solo magari i verbi e le situazioni diventa molto più veloce poi adesso ovviamente qui non abbiamo un passaggio per andarcene perciò siamo un po' babbi perché non abbiamo la scala per scendere qui potremmo adesso implementare la scala di legno per usare oppure fare un passaggio diretto scala di legno riparata senza dover usare quell'oggetto oppure potremmo addirittura non scendere perché quando saliamo in questa stanza potremmo dire le assi di legno cadono dalla scala cascano al piano di sotto e non possiamo più scendere e trovare il modo per scendere in un altro modo mica male come idea infatti è quella che voglio ampliare perciò andiamo sul room un po' traballanti ma dovrebbe essere sicuro perciò facciamo così come passiamo sulle assi posizionate no 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 eh sì assi posizionate sulla scala queste allora no voglio usare un altro modo le assi si staccano dalla scala con il tuo peso e cadono al piano di sotto virgola faccio un up end ma per fortuna riesci a salire senza cadere insieme a loro punto facciamo così bene abbiamo trovato un modo per non riscendere complicare un pochino complicarci un po' la vita anzi complicarci la stanza facciamo ricarica ecco qui le assi si staccano dalla scala con il tuo peso e cadono al piano di sotto ma per fortuna riesci a salire senza cadere insieme a loro siamo al piano superiore della casa i pavimenti sono un po' traballanti ma dovrebbe essere sicuro il corridoio è troppo buio avventurarsio avventurarsio certo avventurarsio e ragazzi è buio avventurarsi senza una luce sarebbe troppo pericoloso una cosa che voglio implementare adesso in automatico è la lampada abbiamo una lampada e la possiamo accendere ci dovrebbe venire in mente accendi lampada visto che abbiamo una lampada e potremmo proseguire in questo buio corridoio senza doverci ammazzare giù per le scale io intanto qui chiudo questo file perché per oggi terminiamo così rigenero l'avventura così ho corretto quell'errore grammaticale che ce ne saranno due milioni ma per ora correggiamone uno per volta e dalla nostra cala terribile ecco qua dove non possiamo riscendere come vedete non abbiamo il comando accendi ma io questa sarà la prossima cosa che implementerò il nostro impermeabile lo possiamo togliere perché siamo dentro casa e un saluto un abbraccio a tutti e alla prossima ciao ciao